Buongiorno a tutti, come promesso oggi faccio un video con la felpa di Patton, mi scuso subito, questa è della terza armata come omerale, ieri ho detto erroneamente quarta armata, tra l'altro non so se non ho avuto modo di leggere altri commenti, perché per il bello della diretta questo l'ho fatto ieri, questo video, tanto che svelo un trucco, i video li faccio il giorno prima e li pubblico la mattina, se qualcuno si fosse sentito offeso, perché ho detto viva Patton e sappiamo tutti che Patton ha commesso delle azioni profondamente criticabili, dei crimini tutto e per tutto contro i soldati italiani in Sicilia, contro popolazioni, quindi da questo punto di vista io mi dissocio da Patton in questo, era un elemento guliardico per fare un elogio di un generale che comunque nel bene o nel male è stato tra i protagonisti della seconda guerra mondiale, comunque chiusa questa parentesi, il video di oggi è incentrato sulla recensione del film Quel maledetto ponte sull'elba, un film del 1969 per la regia del regista Leon Chimoschi, regista argentino, il film si colloca all'interno di quel filone di cinematografia, B-movie, spaghetti movie, maccaroni movie come vengono definite, dell'accavallo tra la fine degli anni 60 e i primi degli anni 70, in realtà proseguiranno ancora per tutto il decennio degli anni 70, in cui appunto la cinematografia italiana anche in collaborazione con produzioni spagnoli, visto che molti di questi film vennero girati in Spagna, molto spesso anche con stesse troupe, stesse produzioni di film di genere spaghetti western, quindi venivano fatti un po' a una sorta di batterie di polli in Spagna, in cui c'erano dei costi di realizzazione bassi, ma anche appunto delle ambientazioni che garantissero una certa aderenza. Poi nella recensione del film, proseguo, parlerò di alcuni elementi un po' critici, però il film secondo me è godibile, nel senso che il film del 69 è una produzione sicuramente a basso costo, il basso costo si evince soprattutto nella scarsa disponibilità di mezzi, i costumi sono abbastanza limitati, abbastanza legati a produzioni appunto come devo dire a basso costo, non c'è una grossa ricerca del dettaglio, gli uniformi sono un po' raffazzonati, alcuni particolari sono veramente sconcertanti, soprattutto negli elmetti tedeschi, uniformi tedeschi, ma anche l'uso degli elmetti americani da paracautista, l'uso delle magliette bianche, le t-shirt sopra alle camicie verdi, da quello che posso sapere io, vennero utilizzate dall'esercito americano nel periodo post bellico, anni 50, nel periodo della guerra del Viettano, particolarmente utilizzate, ma nella seconda guerra mondiale non mi risulta proprio. Quindi a parte questi elementi, in realtà poi il film secondo me regge, allora il canovaccio è un canovaccio abbastanza collaudato, c'è un ponte, c'è qualcuno che lo vuole distruggere e qualcun altro che lo vuole mantenere in piedi, quindi questa è la storia, di film sull'argomento ce ne sono una marea, quindi diciamo non è una storia originale, però secondo me viene calata bene all'interno dello scenario di fine guerra, siamo nei primi mesi del 1945 e il commando americano ha l'obiettivo di distruggere questo ponte, non tanto per fare un dispetto, per creare un disturbo ai tedeschi, ma quello di evitare che i sovietici possano superare l'Elba e entrare in un territorio tedesco afferente agli alleati occidentali. Quindi in questo senso secondo me c'è una chiave di novità, con un connotato politico non scontato e non così comune in film di guerra e in film di guerra sicuramente di così basso budget, tant'è che anche gli stessi protagonisti del film evidenziano che lo scopo dell'azione è uno scopo prettamente politico, strategico e non tattico di breve durata, anche perché tutti sono un po' convinti che la Germania abbia perso la guerra e che sì che la Germania abbia perso la guerra ne sono convinti anche gli stessi tedeschi perché il manipolo di truppe dell'esercito tedesco a presidio di questo ponte si lasciano un po' con dei commenti in cui sostanzialmente dicono che la guerra è persa e c'è il maggiore che in questo caso dell'esercito ma ha un omeralico delle SS, pure qui un po' di elementi poco rispondenti alla realtà uniformologica dell'epoca che è un maggiore particolarmente fanatico e appunto fino all'ultimo sarà determinato nel portare avanti il proprio rigore fanatico in tutto e per tutto che deve mantenere questo ponte in piedi, deve evitare che ci siano anche da parte delle truppe, delle proprie truppe, dei motivi di dissenso, dei motivi anche di opposizione interna e questo secondo me è interessante rispetto a molte altre pellicole dove queste tematiche non vengono per nulla affrontate o vengono affrontate in maniera un po' becera. Qui dicevo il film è costruito su un canovaccio già visto, ci sono anche degli interventi di Do, di due donne nella storia che in qualche modo vanno a creare una turbativa per certi aspetti, un elemento invece positivo dall'altro, però su me viene cadenzato bene. Il regista Klimowski è molto capace, nel senso sa fare il mestiere suo, quindi da questo punto di vista dà brio al film. La storia è comunque all'interno del già visto è qualcosa di interessante, pensiamo che in quell'anno, cioè molti dei film di questo genere sono quasi tutti sempre di comando, di azioni, di dover trovare una cosa impossibile, quindi film di questo ne abbiamo visto una marea, non ultimo 5 per l'inferno proprio del 69 che appunto motteggiano, hanno degli atteggiamenti un po' da visto e rivisto, però questo film sta una leggera spanna sopra gli altri e tra l'altro l'ho trovato su RaiPlay, quindi è visionabile in forma del tutto libera sul canale digitale della Rai, quindi se avete in modo guardatelo perché diciamo se vuoi già il suo perché. Gli attori, gli attori sono per lo più sconosciuti, l'unico che sta un po' che con un meno lo conosceva, si chiama Tab Hunter, che è americano, che so da quello che ho letto, che avrebbe avuto un certo credito negli Stati Uniti solo che essendo omosessuale era lasciato un po' a margine dello star system d'oltreoceano, venne utilizzato in Italia, cioè in produzione europea ed ebbe un certo credito un po' maggiore. Dicevo, il film è ambientato in Germania, tra la confina della Germania e la Polonia, siamo nei primi mesi del 1945, quindi dovrebbe fare particolarmente freddo, dovrebbe avere la neve, dovrebbe avere un abbigliamento invernale o quantomeno rigido, invece sembra che siamo in estate, un clima mediterraneo, una vegetazione prettamente mediterranea, con i pini, e fa un po' a cazzotti con la realtà, uno pensa all'elba, e da qualche punto di vista sembra molto il film La battaglia dell'ultimo Panzer, che era ambientato in Normandia, quando invece si vedevano delle ambientazioni tipiche della Spagna, del bacio del Mediterraneo, e questo si evidenzia questi limiti anche nello stesso ponte su questo fiume, che è un fiume fiumiciato, non è che sia niente di che, uno pensa all'elba, il fiume Elba, un fiume grandissimo, un ponte a grandi campate, invece no, è un ponte modesto e da questo punto di vista non si riuscirebbero neanche a capire come i sovietici non potrebbero riuscire a fare un ponte di barche, qualcosa, per farli attraversare questa cosa, visto che comunque avevano grandi capacità anche logistiche nel superare migliaia e migliaia di chilometri, quindi sembra un po' da questo punto di vista poco realistico, però per Palatifini da questo punto di vista è criticabile, però nel complesso, ripeto, io credevo molto peggio, cioè quando ho visto alcune recensioni, ho visto un po' l'inizio per capire un po' di cosa stavamo parlando, pensavo veramente che fosse uno dei tanti film veramente dozzinali, un tanto al chilo, invece vi posso onestamente dire che mi sono un po' rivalutato, anche la storia che affronta il gruppo, l'aspetto anche ironico, perché poi dopo è un tema dell'ironia nel cinema bellico che sarebbe stato cavalcato, pensiamo a regista Hutton, con gli eroi di Kelly, i guerrieri, ovviamente con altri mezzi, ma anche con altri attori, avevano lì calibri come Clint Eastwood, Donat Sattel, Teresa Wallace, ma poi tutto quel ciclo di cinema italiano degli anni 70, pensiamo a Castellari, a quel maledetto treno blindato che un po' riprende anche il titolo, quel maledetto ponte sull'elba, quindi c'è sempre un po' qualcosa di quello e di maledetto, quella sporca dozzina, quindi sono dei titoli che anche ritornano, appunto poi un titolo italiano perché in originale, essendo una produzione più che italo-spagnola, spagnolo-iberico-italica, appunto il titolo originale è Non Importa Morir, però alla fine, ripeto, c'è un qualcosa di interessante, anche la musica richiama con una tromba molto le musiche del West, adesso non ricordo onestamente come si chiama chi curava le musiche, però aveva avuto esperienza nel cinema degli spaghetti western, e tra l'altro l'esecutore delle musiche Roberto Pregaddio, che è quello che faceva il maestro della corrida, o corrato per dire, quindi diciamo abbiamo anche degli elementi di curiosità all'interno di un percorso tra cinema, musica, televisione, eccetera. Quindi secondo me è un film godibile, è un film che va rivalutato rispetto a tanto cerpame che in quegli anni, anche negli anni successivi, il cinema bellico avrebbe fatto. Detto questo, io ricordo la mia felpa, mi piace, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao!